Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come riparare il disco ovviamente si può riparare attraverso un'analisi che ho appena fatto sul prompt dei comandi e non voglio rifarla perché ci ha messo due ore e mezza ok quindi io ho aperto prompt dei comandi come amministratore quindi in questo caso tu vai su cmd e fai esegui come amministratore e apri il prompt dei comandi poi selezioni il disco che vuoi riparare quindi in questo caso se tu vuoi riparare il tuo disco dove tiene il tuo sistema operativo tipo questo pc disco locale c dove ho il sistema operativo dovrai riavviare il sistema quindi se metti la lettera c due puntini spazio slash f slash r slash x x è per smontare il disco per fare l'analisi non ti preoccupare non cancellerà nulla perché dopo due ore due ore e mezza ha fatto l'analisi si è ripristinato così il disco e ho ancora i miei file ok i miei giochi vabbè i miei giochi quindi e fai invio farà così l'analisi inizierà così questa analisi poi ci ha messo un'ora e 46 minuti per fare il ripristino file utente poi ci ha messo 26 minuti per fare il ripristino spazio disponibile come puoi vedere ha fatto l'analisi e ha trovato nessun problema rilevato quindi non sono necessarie ulteriori azioni e qua sotto ti dirà tutto quello che ti serve del tuo disco quanto spazio hai quindi in questo caso se devi riparare il tuo disco dove hai il sistema operativo devi solamente mettere c la lettera c spazio slash f slash r slash x e premi invio e in questo caso ti dirà y e una n quindi dovrai premere y per riavviare il tuo sistema così ok così devi fare e una volta fatto riavvia il sistema e così facendo partirà un'analisi una verifica del disco e dovrai aspettare ok invece se vuoi riparare un disco a parte che non ha il sistema operativo sopra ha fatto la mia analisi questa questa è e non ha trovato nessun problema quindi per problemi commenta peraltro entra nel server discord se hai problemi quindi in questo caso sto anche smanettando anche qua sopra ed è niente di che solamente anche una verifica per riparare il disco quindi è una cosa bella da fare perché è appassionato di queste cose quindi se questo video ti è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanellina e di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao